accorgetevi la voce interiore attraverso roberta s santa maria delle mole 9 marzo 2010 guide ed è un bene che sia così altrimenti vi perdereste in inutili pensieri perché ascoltateci non perdete tempo a fare la distinzione tra anima spirito mente ma accorgetevi che siete vivi a 360 gradi e non vi preoccupate poi di capire da dove vengono i vostri pensieri perché voi avete la mente proprio per essere presenti a voi stessi la mente è lo strumento ultimo di un meccanismo molto ampio e dunque quello che voi riuscite a riconoscere meglio ma è uno strumento alimentato da altri elementi e quindi non vi confondete pensando di dover distinguere anche questa volta una parte di voi da un'altra